Benvenuti o bentornati su Fanta Polen e benvenuti in questo video dedicato alla Fiorentina e a tutte le mie considerazioni sintetiche, perché sono tante le considerazioni che voglio fare, su il progetto Fiorentina in questa stagione per quello che sta emergendo. Mi è stato chiesto da un utente questo video, credo perché nonostante la Fiorentina a livello di risultati stia facendo un'ottima stagione, almeno in campionato, io spesso quando parlo della Fiorentina sono molto critico, sono molto negativo e quindi mi è stato chiesto l'origine di queste mie considerazioni negative su questo progetto, nonostante i risultati poi all'occhio di tutti, insomma, siano positivi, la Fiorentina ha strappato anche qualche risultato importante come la vittoria contro l'Atalanta o la vittoria contro il Napoli a Napoli, quindi c'è da spiegare le mie convenzioni, poi sono convenzioni personali, quindi uno può tranquillamente non essere d'accordo con quello che penso, però vi motivo il perché a me questo progetto Fiorentina non entusiasma, ed è un po' che non mi entusiasma. E cominciamo con il mercato, il mercato fatto quest'estate, trovate il video pagellone di tutti i calci mercati delle 20 squadre di Serie A, dove ho dato un voto molto basso a quello della Fiorentina, perché secondo me è stata una grandissima occasione mancata, non vado a perdere troppo tempo perché appunto l'ho detto anche nel video pagellone, però secondo me la Fiorentina arrivava a questo calciomercato con un dovere importante, cioè quello di alzare considerevolmente l'asticella del valore assoluto della squadra, perché la squadra arrivava da una finale di Conference, da una finale di Coppa Italia, da un'altra qualificazione sempre in Conference, è vero che è una competizione di basso livello, ma è comunque una competizione europea UEFA, e senza stare poi a sindacare se è arrivato in Conference perché hanno squalificato la Juve, se è arrivato nelle due finali perché non hai trovato nessuna squadra competitiva nel percorso, ok, queste cose le sappiamo, però i risultati, che poi sono quelli che contano, dicono che la Fiorentina comunque si era riqualificata con una competizione europea, aveva giocato due finali nella stagione precedente, e aveva un centro sportivo, il migliore d'Europa, in costruzione che sarebbe stato inaugurato qualche mese dopo. Quindi si sta parlando di una squadra che aveva tutte le carte in regola per poter fare il mercato da padrona, o comunque per poter veramente alzare il livello della squadra, sia dal punto di vista meramente tecnico, quindi andare a prendere calciatori più forti di quelli che aveva la Fiorentina, la passata stagione, sia anche dal punto di vista dell'esperienza, cioè andare a prendere calciatori internazionali, calciatori di caratura internazionale, per aumentare quello che l'anno scorso sostanzialmente è mancato a questa squadra, cioè l'esperienza, perché in panchina l'esperienza non c'è perché l'allenatore è un allenatore emergente, però in campo ci potrebbero essere calciatori che ti fanno la differenza. Ebbene, la Fiorentina ha fatto un mercato secondo me pessimo, perché è andata a prendere tutti i calciatori di basso livello, a livello proprio di internazionale, perché Parisi l'è preso da una squadra come l'Empoli, ed è un giocatore che nessuna squadra di livello più alto cercava, perché la Lazio e la Juventus, per dirne due a caso, stanno giocando senza terzino o sinistro quest'anno, Parisi che era giovane, italiano, aveva 50 presenze in Serie A, costava una miseria, eppure non lo hanno voluto. Quindi, cioè, è un giocatore valido, un buon giocatore, ma non è certo quello che ti faceva fare il salto di qualità. Si è andata a prendere Enzola, che è un pupillo dell'allenatore, ma era un pupillo dell'allenatore in Serie B, cioè si sta parlando di un calciatore che in Serie A non ha fatto sfracelli, nonostante abbia giocato tre anni in Serie A non ha mai avuto numeri particolarmente esaltanti. E comunque non è quel centravanti che ti... Anche se l'allenatore non è uno che cerca il centravanti bomber, però non è quel centravanti che ti cambia la qualità del reparto offensivo. Si è andata a prendere Christensen nel retrocesso con Lerta Berlino, quindi un altro calciatore non internazionale. Si è andata a prendere Mina, che era un esubero svincolato dall'Everton perché è sempre rotto, e infatti anche quest'anno praticamente il suo contributo è nullo. Si è andata a prendere Beltran, che in assoluto può anche essere una promessa interessante, ma se tu vai a prendere un calciatore dal calcio sudamericano a campionato iniziato, sai già che quest'anno non lo puoi schierare, perché gli ci vuole 3-4 mesi per ambientarsi in Italia e quando poi si è ambientato non ha più la condizione atletica perché lui è da febbraio che sta giocando. Quindi a dicembre Beltran lo puoi buttare via perché gli dovresti far fare una nuova preparazione atletica che tu ovviamente non fai. Quindi quando vai a prendere un calciatore sudamericano o lo compri a inizio mercato, a luglio schiantato, quindi lo interrompi nel suo campionato e gli fai fare la preparazione o se lo devi prendere che lui è alla trentesima giornata in Sud America e poi riparte a bomba qui e non si prepara mai, ovviamente è un giocatore che quest'anno non lo vedi. Infatti Beltran non lo vedremo, almeno il mio pensiero è che non lo vedremo. Si è integrato male in questo inizio di campionato, ha avuto poco spazio anche perché l'enatoio gliel'ha concesso poco, si vede che è nettamente superiore a Anzolà, però poi non avrà la condizione atletica per giocare. Si è andato a prendere Arthur, che è un giocatore scartato da tutte le squadre in Europa dove ha giocato e uno dice vabbè però è uno scarto del Liverpool, della Juventus e del Barcellona, non è uno scarto di squadre di basso livello, indubbiamente, però quello che ha dimostrato Arthur secondo me in queste squadre non è stato tanto quello di non essere all'altezza della Juve o del Barcellona, ha dimostrato di non essere all'altezza del campionato europeo, di avere delle caratteristiche che non si sposano bene col calcio europeo ma si sposano col calcio sudamericano. E infatti in questo inizio di campionato secondo me Arthur ha dimostrato di avere grandi letture difensive, di essere un giocatore utile in fase di non possesso, ma quando c'hai la palla è un giocatore completamente inutile, è un giocatore che quando gestisce il possesso del pallone è del tutto superfluo e tra l'altro non regge i 90 minuti perché sistematicamente viene sostituito perché non ce la fa a livello di fiato a reggere i 90 minuti. Un giocatore secondo me da calcio sudamericano, un po' come poteva essere Gerson, quei calciatori che in Europa non si sono ambientati e secondo me anche Arthur fa partire in questa categoria. Quindi un mercato assolutamente insufficiente che non ha alzato il livello della squadra e che mi ha fatto perdere molte speranze su questa stagione, ma in generale su questo progetto. Tant'è che per quanto mi riguarda il principale colpevole diciamo di questo ciclo della Fiorentina che un'è né carne né pesce, che non ti fa sognare, non ti fa sperare, è la dirigenza. E poi la dirigenza chiaramente ce la tiene il proprietario, sono scelte di commisso quelle di mantenere questa classe dirigenziale. Però questa squadra purtroppo si ritrova poi a giocare delle partite ad armi pari, a volte anche tecnicamente inferiore, con squadre come Bologna, con squadre come Sassuolo, che pagano un decimo del monte stipendi tuo, che pagano calciatori molto meno, che hanno molto meno potenziale economico e che parlottano anche meno, nel senso che si fanno anche meno i complimenti allo specchio, insomma, rispetto a una Fiorentina che ha ambizioni e obiettivi di livello più alto rispetto al Bologna e al Sassuolo, ma che poi in campo schierano una squadra non superiore a quelle che mettono in campo Bologna e Sassuolo. E c'è un dispengio economico nella Fiorentina nel creare questa squadra che è esagerato per quello che poi è il valore. Questa è una squadra che, non mi stancherò mai di dirlo, prende giocatori a caso, prende giocatori sulla base di quali sono quelli facili da comprare, non fa mai trattative impegnative, non convince mai squadre a cedere giocatori che con le squadre non vorrebbero cedere, non vince mai la concorrenza spietata di altre squadre di pari livello o superiore, convincendo magari il calciatore sotto altri punti di vista, ma è una squadra che sistematicamente acquista calciatori che sono in vendita, che hanno clausole, che hanno litigato, che sono fuori rosa, calciatori che proprio non sanno dove andare, messi alla porta col cartellino vendesi, quindi calciatori facili da comprare, molto spesso con concorrenza di squadre inferiori, che quindi sono attratti dai soldi, perché poi tu dai a un mandragora della situazione un milione e mezzo di stipendio, lui non l'ha mai visto in vita sua, un milione e mezzo, giocava nell'Udinese, nel Crotone e nel Torino, è chiaro che un calciatore così viene, è ovvio, però non è certo con giocatori come Mandragora, come Barak, come Duncan, come Brecalo, come Kwame, non è certo con calciatori, Zola, Parisi, compagnia cantante, Igor, non è con calciatori così che tu poi puoi fare il salto di livello, cioè con mercati impostati in questo modo, questo è il livello massimo che puoi raggiungere, cioè essere l'ottava forza del campionato che può sperare di arrivare settima se una delle prime sette fallisce, e sinceramente dopo tre anni in cui la Fiorentina ricopre questo ruolo, io da tifoso avrei desiderato un cambio di marcia, un miglioramento, un qualcosa in più, che non è arrivato, il segnale dal mercato non arriva mai, questa squadra mai dal mercato ti lancia il segnale di quest'anno vogliamo crescere, vogliamo fare di meglio, vogliamo creare una squadra più forte, mai, da quando è arrivata questa proprietà i mercati sono sempre stati per cambiare tutto e non cambiare nulla a livello di qualità assoluta, perché se si va a vedere la squadra che è commisso, ha ereditato da Della Valle il primo giorno che è arrivata, si va a vedere l'undici titolare di quella squadra, non è una squadra inferiore rispetto a quella di ora, e quindi in questi anni non è stato fatto un salto di qualità, si spende molto di più, ma la qualità non è aumentata, e quindi io sono molto, come si può dire, rassegnato, cioè ogni volta che apre una finestra di mercato dico vai, ora si prende altri 4-5 giocatori che non servono a nulla, calciatori pagati 10-15 milioni completamente inutili, calciatori strapagati che valgano meno di quello che tu li paghi, calciatori da zona retrocessione o da metà classifica, ci sarà tutto il tram mediatico, voti alti, perché abbiamo preso tanti calciatori, che invece prenderne due giusti ne prendi sette sbagliati, però quando c'è tanti cambi i giornalisti si esaltano perché vanno a cercare video, cosi, c'hanno materiale insomma su cui poter lavorare, quindi voti alti, Fiorentina competitiva, Fiorentina outsider, Fiorentina in lotta per questo, per quest'altro obiettivo, poi li vedi in campo, e alla fine sono costantemente in ballottaggio con quelli che quattro anni che giocano e che ovviamente ottengono gli stessi risultati, perché se i giocatori sono quelli, qualcuno può migliorare, qualcuno peggiora, qualcuno invecchia, qualcuno si fa male, alla fine il valore della squadra è sempre quello, quindi io sono molto, molto intristito dalla gestione dirigenziale di questa squadra, soprattutto in ottica mercato, vedo tante scelte senza una logica, penso ad esempio a quella di Barak che è stato preso per metterlo in un ruolo che non è il suo, ci può stare, magari tu vedi un calciatore che ha il potenziale di rendere un altro ruolo, però poi lo provi, vedi che non rende, quindi era in prestito, lo puoi restituire al Verona, no, tu a gennaio lo riscatti per poi metterlo fuori rosa a giugno, poi ha avuto un problema di salute serio, quindi c'è stato probabilmente anche quello come motivo, però è un calciatore che non fa parte di questo progetto tecnico, è palesemente un esubero, e tu lo hai riscattato sei mesi fa, compri i sabiri dalla Sampdoria, perché? Perché aveva litigato con tutti, era emigrato in Germania pur di non farsi vedere a Genova, l'hai preso a poco, era una grande offerta in mercato, è arrivato a Firenze e dopo un mese l'hai venduto in Arabia, cioè a me queste operazioni danno proprio l'impressione che la proprietà non ha idea di cosa sta facendo, prende i calciatori a caso, ora gira il nome di Baldanzi che è un altro calciatore con cui non fa in minima mente il salto whiteanzi, fa il salto indietro, secondo me, ha fatto vedere veramente poco secondo me in questo anno e mezzo in Serie A, ha fatto tre mesi buoni all'inizio, anzi ottimi all'inizio, però poi non si è più confermato ed è un altro calciatore che è un trequartista che nella Fiorentina con il ruolo non esiste, quindi cioè vedi veramente tante cose a caso e quindi non uso speranze di crescita fin tanto che la dirigenza sarà questa e purtroppo sembra che le poltrone della dirigenza siano inchiodate a terra anzi possano cambiare e questo per me è un problema grave. Veniamo all'allenatore, allenatore che secondo me è bravo perché questa non è una squadra da settimo posto, non è una squadra da arrivare in finale di conference anche se contro squadre mediocre però non è una squadra da arrivare a quei livelli, è una squadra che rende più di quanto vale, alcuni calciatori li ha fatti crescere lui e è una squadra che come individualità è da undicesimo posto, secondi è decimo, da metà classifica insomma, poi riesce in un modo o nell'altro ad ottenere risultati superiori a quello che è il suo reale valore e quando una squadra performa meglio del suo valore spesso i meriti vanno dati all'allenatore che è quello che mette in campo, che motiva, che organizza la squadra e quindi secondo me la squadra sta rendendo più di quello che è il suo reale valore. Partiamo da questo presupposto, quando una squadra rende più di quanto vale l'allenatore non può essere considerato colpevole di una squadra che magari non rende quanto sarebbero le aspettative poste da una società che non si rende conto che il materiale a disposizione è molto inferiore a quello che lei crede. Quindi l'allenatore secondo me sta facendo bene. È limitato? Assolutamente sì. Cioè è un allenatore che ha un'idea di calcio in testa, quella vuole fare, non è colpa sua se è tre anni che è a Firenze ed è tre anni che non gli prendono un calciatore idoneo alla sua idea di calcio e non è colpa sua se li prendono tutti i calciatori che non hanno mai una giocata individuale che possa risolvere le partite, che sia in difesa o in attacco e non c'è mai un giocatore che ti fa la giocata vincente o almeno qualcuno c'è però Gonzales se l'è costruito lui perché quando è arrivato Gonzales era un giocatore insignificante che non sapeva tirare in porta e non saltava l'uomo quindi è lui che gli ha dato fiducia e l'ha portato a essere poi il leader che è adesso che è l'unico giocatore della Fiorentina di livello alto in questo momento che appunto veste la maglia viola c'è Bonaventura che si accende a sprazzi diciamo 5 minuti a partita che in quei 5 minuti se ci sono gli spazi per poter incidere ha un assist importante ed è un giocatore che ha un buon fiuto del gol per cui quest'anno sta performando a livelli clamorosi perché ogni palla che tocca praticamente va in gol però è un giocatore che all'interno dei 90 minuti come ho detto prima si accende 5-10 minuti il resto in campo è come se non ci fosse questa squadra manca di calciatori tecnici che sono quelli che poi ti valorizzano anche il giro palla lui è un allenatore che è molto improntato al possesso del pallone all'accerchiamento della difesa avversaria all'attaccare con tanti uomini però poi ti serve il giocatore di carattere di personalità di tecnica che quel giro palla orizzontale te lo trasforma in un'occasione da gol lì a me il gioco della Fiorentina non piace però non è colpa dell'allenatore se dico un nome a caso ma è per intendersi se Kwame tocca 50 palloni sull'esterno e non riesce mai a saltare l'uomo non è colpa sua se Icone arriva 10 volte a calciare in porta ma non calcia mai nello specchio e calcia sempre fuori non è colpa sua se il mediano che dovrebbe dettare i tempi di gioco alla squadra che è Arthur di solito tocca 120 palloni e non ne dà mai uno di prima cioè non è colpa sua se succede questo nel senso quello che potrebbe fare lui è che preso atto che la squadra che ti è stata data in mano è inadeguata a quello che tu vorresti fare ed è tre anni che è inadeguata puoi cambiare stile di gioco e infatti l'ultima partita prima della sosta contro il Bologna un po' mi ha fatto sperare perché la Fiorentina contro il Bologna ha giocato di catenaccio ha giocato lasciando il possesso palla al Bologna cercando di partire in contropiede se la Fiorentina gioca così allora forse può ottenere risultati anche migliori perché va un pochino più incontro a quelle che sono le caratteristiche dei calciatori che non sono adeguati a fare questo genere di gioco però è anche vero che se hai un allenatore lo promuovi lo rinnovi e ci vuoi aprire un ciclo ogni tanto gli puoi anche andare incontro e prendere quello che chiede lui ha allenato il Trapali lo Spezia non è che ha allenato il Real Madrid non penso che abbia pretese altissime a livello di nomi però a livello di caratteristiche ce l'avrà vorrà dei giocatori con determinate caratteristiche non stanno arrivando e quindi io le colpe all'allenatore non le do penso che questo sia l'ultimo anno che farà a Firenze l'ho detto anche nel video che ho pubblicato sul cambio allenatore del Napoli perché secondo me l'italiano il prossimo anno andrà al Napoli perché ha tutte le ragioni ad essersi rotte coglioni secondo me cioè dopo tre anni che alleni sta squadra e vedi che la Fiorentina non vuole fare il salto di qualità perché il salto di qualità lo vedi dal mercato lo vedi da come ti vengono incontro nel prenderti i calciatori e lui da quando è arrivato che chiede un esterno che faccia gol non si prende sinceramente secondo me l'italiano non ha più voglia di stare in una squadra dove ha ottenuto il massimo che può ottenere finché la Fiorentina lavorerà così e se anche nell'anno del Viola Park e delle due finali raggiunte clamorosamente non fai il salto di qualità vuol dire che questa squadra questa proprietà questa dirigenza per come è impostata in questo momento non è in grado o non vuole o non è in grado di fare un salto di qualità e quindi l'allenatore se lo fa da solo il salto di qualità va in una proprietà più importante e quindi secondo me è giusto che cambiari a fine anno e mi dispiacerà perché l'italiano è il principale artefice di una squadra che è scarsa ma sta rendendo meglio di quel che vale per quanto mi riguarda capitolo calciatori io non posso arrabbiarmi con i calciatori perché non ci sono giocatori svogliati non c'è il giocatore bravo che non ha voglia che non si impegna c'era l'anno scorso Karajovic che poi bravo si fa per D un buon giocatore un discreto giocatore però non aveva voglia di giocare però io difficilmente io mi arrabbio quando vedo un calciatore strafottente un calciatore come a volte era Igor che era scarso come giocatore e che pensava ad essere Beckenbauer e magari giocava sempre d'anticipo o pensava di dribblare sempre l'uomo e poi faceva delle zotte incredibili quelli sono giocatori che mi fanno arrabbiare però un giocatore che è semplicemente scarso e che mette in campo tutto quello che ha a disposizione io non posso arrabbiarmi con lui posso arrabbiarmi con chi pretende da lui più di quello che può rendere con chi lo ha pagato come se fosse un top player e poi invece è un giocatore mediocre ma non posso arrabbiarmi con lui non è colpa sua questa è una squadra fatta di giocatori con tanti limiti che mettono in campo quello che hanno a disposizione uno dei giocatori a cui io ho voluto più bene della nuova fiorentina post fallimento è stato Donadel e Donadel era un giocatore limitatissimo ma tutti gli volevano bene perché metteva in campo tutto quello che aveva a disposizione solo che poi intorno a lui aveva giocatori di alto livello perché aveva il Mutu aveva gli Ovetici aveva il Vargas aveva il Pasquale che era il miglior crossatore del campionato uno dei migliori crossatori e quindi poi ha avuto Felipe Melo in quella stagione che Felipe Melo sembrava Dunga ha avuto calciatori forti accanto e quindi il suo lavoro sporco poi rendeva il problema è che questa squadra ha tutti i calciatori come Donadel tutti i calciatori tecnicamente limitati che mettono in campo tanta grinta tanta voglia ma non c'è nessuno che poi trasforma quella grinta e quella voglia in qualità e quindi poi è un centrocampo che non funziona ma perché è costruito male però io non me la posso prendere con Duncan con Mandragora con Arthur cioè non me la posso prendere con questi calciatori che in campo mettono quello che hanno è poco ma questo hanno e poi non è colpa loro se vengono affibbiate a loro delle aspettative più alte di quello che è il loro valore non è colpa loro questa è una squadra che questo ha come come materiale umano a disposizione come materiale tecnico a disposizione non si può chiedere di più anche un Icone che ha odiato da molta da gran parte della tifoseria è un contropiedista è un giocatore che deve attaccare la profondità che deve partire dalla quasi dalla sua metà campo con un lancio lungo e attaccare la profondità lui questo faceva a Lille e comunque anche a Lille non era un giocatore determinante perché poi se andate a vedere i numeri che ha raccolto con la maglia del Lille gol non ne faceva ma quello perché non ha fiuto però non è che facesse 15 assist a campionato però era un giocatore che metteva comunque pepe all'azione offensiva quando attaccava la profondità se la Fiorentina gli dà sempre la palla su piedi non ce l'ha il dribbling non è Berardi ma non è nemmeno Nico González cioè è un giocatore che si accende sulla velocità con la palla sui piedi e l'uomo addosso non si accende ed è ingeneroso pretendere da lui cose che non sa fare e che non sapeva fare neanche prima che arrivasse quindi perché lo hai preso cioè sono queste le non è colpa sua io difficilmente me la posso prendere con questi calciatori perché mettono in campo tutto quello che hanno a disposizione che non è in linea con quello che vorrebbe il tifoso però il tifoso secondo me deve mettersi l'animo in pace come ho fatto io rendersi conto che questa squadra più di un tot non può raggiungere se lo raggiunge festeggiamo siamo contenti perché se questa squadra arriva in Europa League è un miracolo e siamo contenti di arrivarci ma siamo consapevoli che se si va in Europa League si va a prendere pesce in faccia perché non siamo minimamente competitivi e a me una squadra che per dire seguo una trasmissione lo dico tranquillamente qual è è zona mista di RTV38 che credo si possa guardare solo in Toscana dove ci sono ex calciatori importanti ci sono Galli che è stato un grande portiere e Pruzzo che è stato un grande centro avanti c'è Pruzzo che spesso dice facciamo veloce a uscire dalla conferenza che tanto è uno spreco di energie per una competizione che ti porta pochi soldi poca visibilità inutile e concentriamoci sul campionato e io in linea generale posso anche essere d'accordo che la conferenza è una competizione inutile perché tanto la Fiorentina non la può vincere e e quindi arrivare in semifinale o arrivare agli ottavi non cambia nulla perché tanto ballerà un milione e mezzo tra l'ottavo finale e la semifinale ma c'è 4 partite faticose il giovedì da giocare nel mezzo e d'altro canto però dico ok usciamo dalla conferenza no facciamo finta di 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 suicidarci nel girone eliminiamoci dalla conferenza per far cosa il campionato per riandare in conferenza perché dove pensi di andare cioè se vai in Europa League non è che ti qualifini in Europa League e ti danno 30 milioni poi siamo sempre lì andiamo in Champions guadagni 30 milioni perché ti sei qualifinato in Champions ma dagli a questa proprietà a mano con 30 milioni e se ti ci piglia cioè perché tanto si è visto che questa squadra ha venduto bene perché Chiesa Vlaovic Amrabat eccetera eccetera sono stati venduti a cifre a Igor venduti a cifre importanti però questa squadra ha reinvestito e i calciatori che ha la Fiorentina in questo momento sono costati Cabral è costato 15 Icone è costato 15 e Mandragora 10 Baracca 7 e mezzo e Igor mi sembra costato sui 9 quarta 12 Beltran tra parte fissa e parte bonus può arrivare a 25 Zola è costato 13 Parisi è costato tra i 10 e i 12 cioè una squadra che i soldi Dodò è costato 18 cioè è una squadra che che spende non è che Duncan è costato 16 non è una squadra che compra 3 milioni è una squadra che compra quindi tu guadagni 30 milioni perché vai in Champions se vedi come sono stati spesi i soldi in questi anni non è che con quei 30 milioni ora ci fai il grande salto di qualità in Europa League non guadagni tanto vai a affrontare squadre toste che ti fanno un culo così perché non sei assolutamente all'altezza quindi è inutile farsi il mazzo in campionato arrivi settimo vai in Conference e per poi l'anno dopo dire buttiamoci fuori dalla Conference e concentriamoci sul campionato ma allora la stagione prima in campionato a cos'è servita? siamo in Conference onoriamo la competizione diamo il massimo anche perché sta squadra se non può vincere la Conference figurati che figure fai in Europa League concentriamoci e facciamo bella figura in Conference cioè questo è un pochino il concetto e non stiamo facendo una bella figura in Conference assolutamente perché si è rischiato tantissimo nel preliminare con Rapid Vienna ma veramente tanto e nel giro ne stiamo facendo male perché abbiamo pareggiato in casa col Ferenc Varos al 93esimo perché contro il Kukaric abbiamo vinto di rigore per grazia divina la seconda partita col Genk si è fatto 2-2 e se non prendevano il palo si era perso anche quella cioè non si sta facendo una bella figura in Conference figuriamoci se devo concentrarmi in campionato per andare in Europa League per far cosa non riesco a rendere in questa di competizione contro squadre del dopolavoro del giovedì figuriamoci se vado in Europa League a affrontare squadre di calcio serie cioè è una squadra che non mi entusiasma non mi piace come gioca però quello mi può importare il giusto e diciamo che il gioco che ha fatto il fiorentino contro il Bologna è anche più brutto perché lascia il possesso all'avversario giochi di rimessa è anche più brutto però è più efficace è più coerente con quella che è l'identità della squadra io ho difeso la Juventus sul mio canale proprio perché tutti dicono ma è l'anticalcio ma del resto se c'ha tutti i centrocampisti fabbri e che deve fare quel povero Cristo d'allenatore cioè quando gli dai in mano Locatelli McKennie Miretti Kostic UEA tutti i carciatori che sono bravi solo a correre e a tirare pedate non puoi far calcio champagne non ce l'hai giocatori per far calcio champagne se tu provassi a far calcio champagne otterresti risultati inferiori tant'è che la Juventus secondo me come rosa non è assolutamente da prime quattro della classe eppure è lì seconda perché? perché con questo gioco brutto quanto vuoi ma efficace riesce a ottenere risultati molto superiori a quello che è il suo valore quindi anche la Fiorentina giocasse più di rimessa sarebbe brutto come gioco ma sarebbe più efficace di quando cerca di giocare a palloni ma non ha calciatori per farlo quindi a me non piace come gioca questa squadra ma è fisiologico vista come è stata costruita però in linea generale questo è un progetto tecnico che mi ha mi ha tolto la possibilità di sognare e quando tu togli i sogni al tifoso e fai la cosa peggiore possibile perché il tifoso di una squadra provinciale come la Fiorentina vive di sogni perché di solide realtà non può vivere perché del resto la Fiorentina di trofei ne vince pochi di grandi risultati ne ottiene pochi di campioni difficilmente li può avere poi nel calcio moderno è ancora più difficile che negli anni 90 perché adesso trattenere un calciatore forte è difficilissimo quindi si sta parlando di una realtà calcistica che è già limitata di suo per come ha impostato il calcio moderno se ci metti anche poca poca competenza nella costruzione della squadra una comunicazione che commisso quando parla io voglio bene a quell'uomo perché si vede proprio un uomo di saldi principi con dei valori importanti io sono orgoglioso di avere un proprietario così perché se guardo proprietari di altre squadre alcuni non sa nemmeno che faccia hanno perché sono fondi di investimento e troiai simili quindi sono orgoglioso di avere un presidente come commisso d'altro canto però quando parla non parla quasi mai di calcio tu sei presidente di una squadra di calcio e quando parli parla di tutto tranne che di calcio che può anche avere una logica perché tu sei un presidente sei quello che deve mettere i soldi tu devi parlare dell'aspetto economico dell'aspetto organizzativo sono poi i tuoi dipendenti che sono invece assunti per fare calcio che dovrebbero parlare di calcio ma questi dipendenti non parlano mai e quando parlano non parlano di calcio nemmeno loro allora li capisci perché poi questa squadra non fa calcio è un po' questo il concetto e a me ma fa calcio non intendo giocare bene intendo fare un progetto calcistico che abbia una logica che abbia una coerenza che abbia delle prospettive delle promesse credibili questa è una squadra che vive la giornata e che ovviamente facendo così non può fare questo famigerato salto di qualità che potrebbe anche saltare il tifoso che purtroppo è destinato a sostenere una squadra e ovviamente il tifoso lo farà sempre che però è arrivato al suo limite e per poter superare questo limite serve un click importante da parte della dirigenza che non sta arrivando e quindi io per questo che quando parlo di Fiorentina sul mio canale sono spesso molto sconfortato sono spesso rassegnato ma perché è da qualche anno che vedo una Fiorentina abbandonata alla marea come una zattera che non ha né motore né remi e che va dove porta la corrente è una Fiorentina così che va dove porta il vento che quando fa al mercato compra quelli che sono in vendita e non quelli che servono che quando gioca la partita va in base a come gioca l'avversario perché se l'avversario gioca bene la Fiorentina perde se l'avversario fa degli errori grossolani magari riesce a ottenere risultato cioè una Fiorentina che con le sue armi non riesce a imporsi né sul mercato né in campo non riesce ed è triste è una realtà calcistica triste che non è riuscita quest'anno a sfruttare neanche l'entusiasmo di due finali perse ma comunque due finali ed è un Viola Park che è un'opera maestosa meravigliosa sia a livello infrastrutturale che a livello concettuale sportivo non è riuscito a sfruttare neanche questo e quindi io per questo che sono un po' giù di morale l'utente mi ha chiesto come si fa no questo è stato un po' il succo della richiesta dell'utente che mi ha fatto la domanda come fa la Fiorentina a uscire da questo limbo allora la soluzione ovviamente più ovvia è cambi dirigenza io non so chi è che faccia il mercato chi è che organizzi le cose se è pradesse è barone non lo so chi è ma chiunque sia lo cambi prendi qualcuno di nuovo deresponsabilizzi quelli che hanno preso le decisioni finora e speri che con un nuovo innesto in quell'ambito tu possa cambiare anche poi l'efficacia delle decisioni che vengono prese questa ovviamente è la scelta più ovvia può migliorare la comunicazione sicuramente perché io come unica soluzione vedo quella cioè se tu cambi allenatore non migliori la situazione se tu cambi modulo ora alcuni giornalisti si sono esaltati ora Fiorentina sta provando il 4-3-2-1 con Beltran e Nico Gonzalez dietro Anzolà allora ma cosa pensi e cambi allora a parte questa squadra gioca con il 4-3-3 dal primo giorno è arrivato italiano una volta contro l'Udinese quest'anno nel secondo tempo è stato schierato il 3-5-2 una volta negli ultimi 20 minuti perché la Fiorentina sta venendo presa a pallonate e allora lui ha cercato di rinforzare la difesa col 3-5-2 altrimenti questa squadra ha sempre giocato col 4-3-3 poi ci sono quelli che si sono inventati questo 4-2-3-1 con Bonaventura trequartista in realtà Bonaventura fa la mezzala però ha caratteristiche da mezzala che lo portano ad essere spesso al limite dell'area ma non è un 4-2-3-1 perché Bonaventura non gioca centrale gioca laterale quindi gioca laterale destro e gioca in quel lato del campo è un 4-3-3 che in fase di possesso Bonaventura per caratteristiche tende ad accentrarsi a attaccare l'area di rigore le seconde palle le sponde eccetera eccetera ma non è un 4-2-3-1 non c'hai un trequartista non è un trequartista non gioca da trequartista e il 4-3-2-1 che ora stanno ipotizzando è semplicemente un 4-3-3 con gli esterni un po' più stretti ma è sempre un 4-3-3 ma quello dipende dall'interpretazione che dai perché Sottil quando gioca a sinistra tende a giocare decentrato a attaccare l'esterno del campo mentre invece un Brecalo che è destro di piede è un giocatore che ha bezzo al calcio in porta quando parte dalla stessa posizione di Sottil però poi quando attacchi è magari 15 metri più verso il centro ma non è perché stai facendo un 4-3-2-1 è perché Brecalo interpreta il ruolo di esterno l'attacco in maniera differente e quindi ricopre una posizione diversa da quella che ricopre Sottil quando ha il possesso della palla o quando comunque la Fiorentina sta manovrando ma il modulo è lo stesso quindi il 4-3-2-1 è sempre un 4-3-3 solo che avresti come esterno un Beltran che di natura è una seconda punta e quindi tenderebbe a essere più nella zona dell'area di rigore esattamente come Kouame che molto spesso attacca l'area di rigore ma perché è una seconda punta però viene schierato esterno attacco e succede questo quando l'anno scorso esterno attacco ne ha schierato Saponara che invece era un trequartista di natura tendeva ad accentrarsi e a lasciare poi libero spazio sulla sinistra alle sovrapposizioni di Biraghi cioè ma il modulo è quello il modo di giocare è sempre quello è individualmente che i calciatori interpretano il ruolo in maniera differente ma il modulo è sempre quello si gioca con numerini come se fosse una tombola però poi alla fine l'identità della squadra è sempre quella quello che cambia è che siccome la squadra non piace come gioca allora se cambi i giocatori migliora io penso che da tifoso della Fiorentina sapendo qual è il valore di questa squadra quale sono le individualità e tutto è grasso che cola essere quinti cioè noi siamo quinti con una squadra al decimo posto è inutile stare a contestare eh ma la squadra gioca male Manzolà sta facendo schifo è però il terzino destro con Dodò infortunato e Caedo infortunato ci sta giocando Parisi sta facendo danni in difesa siamo quinti siamo quinti con una squadra che non è da quel valore lì tant'è che poi nell'ampiezza del campionato non è che Nico Gonzales e Bonaventura possono continuare con questo con questa media realizzativa altrimenti farebbero 18 gol a testa la vedo abbastanza improponibile però per ora godiamoci il quinto posto finirà la stagione arriveremo noni arriveremo ottavi il valore della squadra è quello cioè tutto ciò che è sopra l'ottavo posto è di conquistato quindi andare a cercare la critica la contestazione il cambio modulo il giocatore giova male e questo vi quando la squadra sta rendendo più di quello che vale sinceramente mi sembra una polemica fino a se stessa io più che polemizzare sono intristito ma quello io sono intristito già da due anni perché questa squadra con la qualificazione in conference il primo anno doveva fare un salto di qualità non l'ha fatto anche se lì ho visto un pochino il tentativo fallito drammaticamente però ho visto il tentativo perché comunque si è andato a prendere Dodò che era uno dei migliori terzini in circolazione e veniva dallo Shakhtar si è andato a prendere un giocatore che in conference aveva fatto sfracelli che era Cabral al Basilea che era arrivato dal campionato sudamericano si era ambientato bene al Basilea aveva fatto bene nella competizione UEFA quindi era un tentativo di prendere un centro avanti forte si è andato a prendere Iconet che comunque aveva giocato nella squadra campione di Francia era un comprimario della squadra campione di Francia però era una squadra che da outsider aveva vinto quindi aveva giocato in un ambiente che aveva vinto da outsider si è andato a prendere Jovic che è stato un flop assoluto che però aveva fatto molto bene al line track di Francoforte che era un outsider tipo la Fiorentina cioè avevo visto comunque il primo anno un tentativo andando a prendere i calciatori così di fare quel salto di qualità quest'anno non c'è stato perché ve l'ho detto prima che i calciatori sono arrivati da che realtà calcistiche con che aspettative la Fiorentina non ha minimamente tentato il salto di qualità quest'anno l'anno scorso l'ha tentato gli è andata male con Cabral io in Cabral ci credevo molto gli è andata male anche con Dodò perché io credevo molto anche in Dodò mentre invece in Iconet in Jovic ci credevo poco sinceramente però in Cabral e Dodò ci puntavo tanto sono stati due flop per motivi diversi sono stati due flop quest'anno non ho visto nessun colpo che mi abbia esaltato insomma quindi per questa stagione Beltran è interessante ma per la prossima e quindi io sono rassegnato sono triste ma non sono polemico cioè non mi piace come sta come sta organizzando il suo percorso la Fiorentina ma preso atto che il percorso ormai è impostato per questa stagione sta facendo anche troppo sta squadra quindi polemizzare la singola partita mi sembra fuori luogo questo è un po' il concetto spero di aver risposto all'utente spero sia piaciuta insomma questa analisi all'utente che me l'ha richiesta vi invito a iscrivervi al canale se non lo siete se volete anche maggiori contenuti sulla Fiorentina essendo la squadra di cui sono tifoso ve la porto molto volentieri cioè io tendo a non focalizzarmi molto sulla mia squadra perché ho creato un canale che vuol parlare di calcio in generale e di calcio provinciale nello specifico quindi di quelle squadre che rappresentano una città che rappresentano un popolo che rappresentano una terra e di cui si parla troppo poco quindi il mio canale è nato così però sono tifoso della Fiorentina se qualcuno vuole delle considerazioni precise e puntuali sulla Fiorentina ve le porto volentieri anche se di mia spontanea volontà non lo farei ci sono tanti altri youtuber tifosi che portano contenuti quotidiani su questa squadra vi invito a iscrivervi al canale a condividere video con le persone che pensate possano apprezzare questo genere di contenuti noi ci vediamo come sempre ai prossimi video vedo se porterò un altro video domani poi vedo comunque poi ci prepariamo al ritorno della Serie A con la tredicesima giornata un caro saluto a tutti ciao ciao